ciao sono Gabriella e faccio parte del settore sicurezza e all'ecostudio e faccio parte del progetto flessibilità smart working quindi sono stata fra i primi fortunati a provare questo progetto che per me ha portato molta serenità quindi molta tranquillità perché riesco a arrivare tardi ma sempre in tempo riesco a gestire meglio il mio bambino che per me non ha valore quindi diciamo che lo approvo mai più senza Grazie a tutti